Se siete stufi delle vostre squadre e avete voglia di farvi la squadra dei vostri sogni passate da venditi in crediti in FIFA Food, link in descrizione Bella a tutti ragazzi, sono Smiley e oggi siamo su un nuovo pack opening Ragazzi questi sono i giocatori che possiamo trovare, i giocatori a cui puntiamo sono Vigo Almesh, Wesley Snyder, Miroslav Klose ma soprattutto Neymar E' fortissimo, 92 di velocità, 94 di tiro, 86 di tiro Tanto già sappiamo che non lo troviamo però noi puntiamo a lui Abbiamo 93.000 crediti, andiamo subito a spacchettare con i pacchetti da 7.500 Non ci sono pacchetti da 15.000, 25.000 Vediamo subito il primo pacchetto da 7.500, da costa, non esce nessuno Non ci esce nessuno Il primo pacchetto non è stato un granché, andiamo subito col secondo pacchetto Sempre da 7.500, Team Awart Lo schippiamo e non esce nessuno Sempre contratti e giocatori non rari, come sempre Apriamo il secondo pacchetto, anzi scusatemi il terzo, con Griezmann Non troviamo mai nulla, impossibile All'altra volta non troviamo nessuno Troviamo tre portieri Rudy, Sommer e Schwarz Ex Chelsea Ma nulla che costa Scartiamo tutto Ancora, Hazard ci fa trovare Hazard Giocatore forte ci fa trovare giocatori forti ovviamente Vediamo, e non è così Gullum Oshii, Gullum e basta Nulla di che Prendiamoci tutto questi, che possono sempre servire Questi sono buoni E scartiamo Andiamo con un altro pacchetto da 7.500 Messi Ci fa trovare Neymarro, perché ovviamente nella stessa squadra scripiamo Samuel, Florenzi e Teite Come sempre non si trova nulla Ma noi non molliamo Ancora Eden Hazard Ragazzi Fino ad ora Ancora devo trovare un giocatore buono E neanche ora Gillet Ari E Badeli Non servono A niente Attenzione abbiamo un doppione Un allenatore Speravo che era S-By-Stiger Che era il giocatore che più Che costa di più nella mia rosa Ma non è stato così Abbiamo ancora 55.000 crediti Team Award Ragazzi Come stavo a dicere Team Award Ci fa trovare Team Award Che non credo vale tanto No, infatti non vale niente Max Air Pina E poi troviamo anche 2.000 crediti Il resto si scarta Abbiamo ancora un altro pacchetto Con Eden Hazard Stavolta lo schippiamo Un giocatore raro Ma non vale niente Douglas Abbiamo speso Quasi 50.000 crediti E non abbiamo trovato nulla Dai con Zalune Colasso Che non ci va a trovare nessuno Ci esce Bocchetti Conoscenza del calcio italiano Ma non ci interessa Ci prendiamo sempre gli allenamenti Infortuni E il resto si scarta Più o meno abbiamo ancora altri 7 pacchetti da aprire Ora Alaba Ora Alaba Facci trovare Alaba Che mi serve pure E invece no Cecidu Cecidu Mulumbu E Sakai Non mi esce nessuno Non è possibile E scartiamo Con Zalune Colasso Dai con Zalo Fammi trovare un giocatore buono Neanche U O Nuo Vediamo se vale Ma non credo O Nuo Non vale niente Tito Slimani E il resto Nulla di che E scartiamo tutto 25.000 crediti E De Nazar Scrippiamo Aduriz Non vale niente Aduriz In front Zambrano Badeli Un'altra volta E altri contratti Che ovviamente Prendiamo Forme fisiche E allenamento Il resto scartiamo Per l'ennesima volta E De Nazar Credo che questo Sia il penultimo pacchetto Ci fa trovare Marti in casa Adesso un buon giocatore Ma che purtroppo Vale molto Molto poco Mandiamo Tutto al club Qui Vediamo solo Per sfizio Non credo Almeno da come ricordo Infatti E scartiamo Ultimo penultimo pacchetto Non ne sono convinto Gonzalo Lasso Dai Gonzalo Riccardo Non ci esce nessuno Diciamo che abbiamo Buttato 90.000 crediti Nel gabinetto Però Dai non fa niente Almeno ci siamo fatti Una scorta Di contratti Di forme fisiche Apriamo l'ultimo pacchetto A 5.000 crediti E chissà se la fortuna Non è qui Schippiamo Esce De Cusma Che non vale Ideie Non vale niente E come sempre Ci prendiamo i contratti Nelle forme fisiche Il resto Scartiamo tutto Vabbè Ragazzi È andata così Non ci possiamo fare nulla Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Lasciate un like Nella pagina facebook Lascerò il link Dei crediti In descrizione E se avete dei metodi Per farmi trovare Qualche giocatore forte Scrivetevi Nei commenti Noi ci vediamo Nel prossimo video Vada ragazzi Ciao